Buongiorno a tutti quanti, oggi è domenica mattina del 26 ottobre, fantastico, a che cosa è Tenerife parliamo di pulizia delle spiagge, io già mi sono preparato con il mio guantino, ho tantissimi collaboratori che stanno iniziando con il guantino, eccoli, distribuzione buste, eccola, una calorie grazia, molto bene, perfetto, allora Tenerife, associazione ambientalista, oggi limpiamo questa playa fantastica, cosa stiamo trovando, fantastico, ragazzi non buttate le cicche sulla spiaggia, portatele via, dietro, eccolo qua, mi sentite di mastica, uguale, bozzicone, guarda io uno provo a raccoglierlo anch'io con questo quanto se ci riesco, qui ce n'è un'altra, e con il mio sacchetto di lato, puliamo la spiaggia, andiamo dai nostri amici, che si stanno preparando, perfetto, trovato, che cos'è questo? un raro esempio di scheletro, di canario, di nervido canario, no, sicuramente sarà qualcosa di qualche barca, sembra una raccetta, è una raccetta da tennis, ma vedo che hai trovato qualche altra cosa, scarpe, no, veramente non l'altro, lattine, cominciamo a rastreare la spiaggia, con tecnica molto sofisticata, e siamo i meglio, sempre ragazzi, Green Tenerife che belle iniziative che fa, così quando voi venite al mare le trovate sempre limpie e pulite, mi raccomando, non buttate le sciche, portatele via,